Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia e studio Monica Pelliccia. Apriamo con la 1 in direzione Bologna, code a tratti per traffico intenso, tra Chiusi e Valdichiana e tra Firenze Nord e la variante di Valico. Segnaliamo che la statale 2 Cassia è chiusa a causa di una frana fino al 7 gennaio, tra il bivio per Radicofani e quello di Ponte Arrigo in entrambe le direzioni. Passiamo al traffico ferroviario, la circolazione sulla linea Siena-Empoli è momentaneamente sospesa per accertamenti. I treni potranno subire ritardi fino a 35 minuti o variazioni. Chiudiamo con uno sguardo alla mobilità cittadina per Capodanno. La tramvia sarà in funzione tutta la notte e sei linee ATAF circoleranno fino alle 2.30. Muoversi in Toscana Info è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!